Napoli e i napoletani meritano un altro destino, un futuro all'altezza della sua storia e delle sue radici. Basta, gli altarini della Camorra non usa mezzi termini. Catello Maresca, sostituto procuratore generale del capoluogo, commentando l'operazione di Carabinieri e DDA Partenopea che ha portato all'arresto di 21 esponenti del clan Sibillo e alla rimozione del tabernacolo dedicato a Emanuele Sibillo, baby boss della paranza dei bambini ucciso nel 2015. Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Napoli, De Magistris. Napoli e la città d'Italia con più strittarte e morali che nella maggior parte dei casi si traducono in cose belle, contrasto al degrado. Poi ci sono casi molto isolati in cui si vogliono ricordare aspetti che attengono a fattori criminali che non meritano tutela e rispetto, accuse il primo cittadino. Intanto emergono nuovi dettagli sull'inchiesta culminata nei blitz delle scorse ore, di come dal carcere di Secondigliano con il cellulare Giuseppe Gambardella, elemento di spicco del clan, sfruttasse la prostituzione con l'aiuto della fidanzata. Intercettazioni inequivocabili che documentano anche lo scontro con i Mazzarella, accusati dai Sibillo di saper sparare solo contro le pizzerie, le stese messe a segno per attirare le forze dell'ordine sui rivali in una guerra che ha come campo di battaglia il centro storico di Napoli martoriato dalla malavita. Grazie. Grazie.